Vediamo questo approfondimento sulla forza di Coriolì. Riprendiamo un esempio fatto in un video precedente dove c'è questo disco, questa pedana rotante, che è il nostro sistema di riferimento K' mentre invece il laboratorio esterno non rotante è il sistema di riferimento K. Omega è la velocità angolare con cui ruota questa pedana e siccome io ho immaginato una rotazione anti-oraria, Omega come velocità angolare è un vettore che viene verso di noi in base alla prima regola della mano destra, infatti dobbiamo mettere le dita della mano destra nel verso della rotazione anti-oraria e il pollice ci dà il verso della velocità angolare, quindi il pollice viene verso di noi e esce dal foglio. Ricordiamo che questo oggetto, qui rappresentato con questo puntino nero, ruota finché è tenuto dalla forza centripeta, per esempio potrebbe essere un accordo oppure un elastico, come accadeva in quel video bianco e nero molto vecchio in cui c'era quel fisico che si trovava all'interno di un tavolino rotante, di un sistema rotante e teneva il disco a ghiaccio secco per mezzo di una matita che tratteneva il disco con un piccolo elastico. Nel momento in cui il disco a ghiaccio secco, cioè l'oggetto veniva lasciato andare, andava per la tangente di velocità costante di modo rettilineo uniforme, questo è il punto di vista esterno dal laboratorio inerziale. Quello è invece il punto di vista interno visto dalla pedana rotante, già lo sappiamo, in un altro video precedente avevamo visto infatti che finché l'oggetto viene tenuto, per esempio con la matita e l'elastico, allora si ha la forza centripeta, appunto che è esercitata dall'elastico, che contrasta la forza centrifuga, forza apparente che nasce solo nel sistema rotante, che vorrebbe spingere l'oggetto verso l'esterno. Sappiamo però che nel momento in cui noi lasciamo, cioè il fisico lascia quell'oggetto, quell'oggetto inizia a percorrere una spirale e siccome il sistema, la pedana girava in senso anti-orario vista dall'esterno, la spirale vista dall'interno o la traiettoria dell'oggetto ruota in senso orario, cioè ruota nel senso contrario a come era visto invece il sistema rotante dall'esterno, cioè la pedana girava in senso anti-orario, allora vista dall'interno la traiettoria dell'oggetto lasciato andrà in senso orario. Con l'allontanamento dell'oggetto dal centro del disco prodotto dalla forza centrifuga e la curvatura prodotta dalla forza di Coriolis. Tutte queste cose le avevamo già viste, adesso approfondiamo le caratteristiche della forza di Coriolis, che si può dimostrare data da questa formula. La leggiamo, meno 2m, m è la massa dell'oggetto che è stato lasciato, omega vettor v, il prodotto vettoriale fra la velocità angolare, questa qua di prima, omega, e v è la velocità dell'oggetto, velocità istantanea dell'oggetto nel sistema di riferimento rotante k' quindi attenzione che in questa formula ci sono due velocità vettoriali, però sono riferite a due sistemi di riferimento diversi perché mentre omega, velocità angolare, è misurata dal sistema di riferimento esterno e è la velocità angolare con cui ruota la pedana nel sistema esterno, invece v è una velocità misurata all'interno del sistema rotante e è la velocità istantanea dell'oggetto che si sta muovendo dentro il sistema rotante quindi omega è misurata fuori dal sistema rotante, cioè nel sistema del laboratorio, sistema inerziale k v è misurata invece all'interno del sistema rotante k' inoltre di queste due velocità c'è da fare il prodotto vettoriale che sappiamo restituisce un altro vettore, infatti viene fuori un vettore che è la forza di Coriolis e questo vettore, cioè il risultato di un prodotto vettoriale, è un vettore che è perpendicolare al piano individuato da omega e v cioè la forza di Coriolis è un vettore che è perpendicolare sia alla velocità angolare omega che alla velocità istantanea dell'oggetto v quindi dire che è perpendicolare a omega vuol dire che giace sul piano del disco l'ho scritto qui in modo improprio, la forza di Coriolis giace sul piano del disco questo perché è perpendicolare a omega e omega esce verso di noi e poi deve essere anche la forza di Coriolis perpendicolare alla velocità v e infatti è quello che accade qua vediamo infatti che in questo momento per esempio l'oggetto sta qui la velocità istantanea dell'oggetto è verso destra perché l'oggetto si sta muovendo lungo la spirale quindi in quel momento verso destra quindi mettiamo questa freccetta la velocità angolare abbiamo detto è un vettore che esce dal foglio e se applichiamo la seconda regola della mano destra mettendo le dita in modo tale che il pollice esca verso di noi questo è il pollice, questo è l'indice il medio della mano destra va in basso anzi no, il medio della mano destra va in alto ma siccome c'è questo segno meno il risultato è una freccia che va in basso infatti eccola la forza di Coriolis che punta verso il basso e la stessa cosa la possiamo vedere in quest'altra figura per esempio quando l'oggetto è in questo punto la sua velocità è inclinata leggermente verso destra in alto allora la forza di Coriolis è perpendicolare c'è un angolo retto fra velocità e forza di Coriolis lo stesso qui, c'è la velocità punta verso destra in basso e c'è un angolo retto con la forza di Coriolis è la stessa cosa qua c'è un angolo retto fra la velocità che punta praticamente in basso e la forza di Coriolis che è quasi orizzontale naturalmente poi c'è anche la forza centrifuga in ogni momento la forza centrifuga è più facile da disegnare perché basta unire, è una forza radiale quindi basta unire il centro con il punto in cui sta l'oggetto e prolungare perché è una forza che è diretta verso l'esterno a uscire dal centro quindi si prolunga questa linea forza centrifuga lo stesso si fa qui si prolunga questa linea forza centrifuga si prolunga forza centrifuga si prolunga sempre la linea che esce dal centro quindi la linea radiale che arriva fino all'oggetto e poi si prolunga verso l'esterno infine qui ho corretto l'imprecisione di prima ho scritto che la forza di Coriolis è perpendicolare a V ma anche è sul piano perpendicolare a ω cioè sul piano del foglio praticamente sul piano del disco e sul piano del disco e sul piano del disco